Allora siamo con Yvonne Bellien, un tuo commento sulla vittoria di oggi? Sì, sei molto molto contento, era oggi 3-0 e adesso gioca la seconda partite e sei molto contento. Per la Final Four di Conegliano? Sì, spesso, spesso. E' bello vedere eventualmente due squadre italiane in una grande competizione. Un'ultima cosa, avete buttato via quel periodo brutto dove c'era un po' di altalenanza nelle partite. Ormai siete su una buona strada. Non ho capito, scusa. Siete su una buona strada per fare bene anche in Coppa Italia. Sì, sì, questo sabato gioca ancora con Scandici e we will see. Grazie, bocca al lupo. Scusa.